Ciao amiche, ciao amici, ho preparato un altro boot tag oggi per conoscerci un po' meglio, un po' di domande e risposte e oggi parliamo di classici. Prima di tutto dobbiamo capirci cosa si intende quando si parla di classici. Io non parlo di un genere in particolare, li ho suddivisi più che altro per età. In questo tag prenderò in considerazione dei libri che hanno avuto un discreto successo, che siano ancora abbastanza conosciuti e che abbiano almeno 50 anni, quindi potrebbe essere sia d'Agata Cristi che Platone, Seneca, l'antica Roma eccetera. Non ho proprio definito un termine letteratura classica. Un classico celebre che invece a te non è piaciuto è Promessi Sposi di Alessandro Manzoni, noiosissimo, me l'hanno fatto studiare a scuola, non mi piaceva per niente. Di quale epoca storica ti piace leggere? L'antica Roma assolutamente e l'antico Egitto. Il ho letto ad esempio i pilastri della terra, mondo senza fine eccetera, molto belli, ma l'antica Roma, l'epoca dei Cesari, mi appassiona di più. E poi mi interessa la storia più recente, dal Rinascimento in poi, 700-800, l'epoca contemporanea. Numero 3, la favola o la fiaba preferita, Alice nel paese delle meraviglie, Pinocchio e i viaggi di Gulliver. Qui ho questa è la versione in inglese di Jonathan Swift, Alice nel paese delle meraviglie. Ecco, ce l'ho ancora, questo libro ce l'ho da quando avevo 5 anni, è ancora nuovo. L'ho letto diverse volte. Un classico che ti vergogni di non aver ancora letto, un classico che ho cercato per molto tempo, lo volevo assolutamente da appassionata di antica Roma, era questo, La vita dei Cesari di Svetonio, che non ho ancora letto, sono anni che l'ho in casa, non l'ho mai letto. È un libro che mi appassiona tantissimo e poi non ho ancora cominciato. Come sempre, compro i libri, poi rimangono lì anni sullo scaffale. I 5 classici che vorresti leggere al più presto. Un autore che ho scoperto purtroppo piuttosto tardi e di cui vorrei leggere tutto è Oscar Wilde. Penso che mi manchino ben più di 5 opere perché ne ho scritte diverse. Ho letto Il ritratto di Dorian Gray, Il fantasma di Canterville e altri racconti e fiabe, di cui tra l'altro vi avevo già parlato in un altro video. Mi piace tantissimo e ammetto di non aver ancora letto un granché di questo autore. Una serie o un libro preferito basato su un classico. Io ho letto questo, che è Il Satiricum di Luca Canali, che è basato sul Satiricum di Petronio e praticamente sarebbe lo stesso libro però in versione contemporanea. È stato un po' adattato. Molto belli tutte e due, ve li consiglio. Poi ho anche L'Orlando Fuglioso, sempre di Luca Canali, però questo non l'ho ancora letto. Anche questo tra le migliaia di libri che devo ancora leggere. Sette, adattamento cinematografico o televisivo preferito basato su un classico. Ce ne sono un paio che anche se sono un po' adattati li consiglio a chiunque. Uno è il Pinocchio di Comencini con il grandissimo Nino Manfredi, avrete visto sicuramente almeno degli spezzoni in televisione. E un altro è il Gesù di Nazareth di Zeffirelli, più classico di così, non si può perché è basato sulla Bibbia. Con Olivia Assen, I panni della Madonna e Robert Powell che interpretava Gesù. Due opere grandissime, ottimi attori, registi, costumi, sceneggiatura, tutto, bello tutto, musiche. Il peggior adattamento cinematografico di un classico. È televisivo, non è cinematografico, però direi Promessi Sposi del trio Marchesini, Solenghi e Lopez, che però era una parodia, uno scherzo, adesso non sapevo cosa dire, ho messo questo, ma è uno scherzo. Edizioni preferite di classici che vorresti collezionare, non colleziono libri, per cui non ce ne sono. Dieci, un classico sottovalutato che consiglieresti? Di Cicerone consiglierei a chiunque questo, il de se ne tutte, il de amicizia. Non sono sottovalutati ma li legge solo chi ha fatto il classico e invece potrebbero leggerli chiunque. Li consiglio a chiunque sia appassionato di letteratura, di lettura. Scriveva molto 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 bene. Bene, vi lascio io finito, vi lascio le domande in descrizione, se volete provare a rispondere anche voi, magari mandatemi le risposte, sono curiosa, e vi invito a iscrivervi e cliccare sulla campanella per le notifiche. Al prossimo video, ciao!